Parco comunale di Verdello, Villa Giavanzi, spettacolare. A due passi il traffico. Un più grande colonia di aironi nella Bergamasca, ultimamente sono arrivati anche Ghibis, piccolo chioschetto attrezzato per i bambini, fantastico. Possibilità di scambiare i libri, i bimbi possono giocare e colorare. A Verdello non manca proprio niente, vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!